Mercoledì 3 giugno, alle ore 21, Brenta Sicuro e il Forum Veneto dei Contratti di Fiume ospitano Luca Palmeri, ecologo teorico e docente di modellistica dei sistemi ambientali e di valutazione di impatto ambientale presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Padova. Luca Palmeri ci parlerà delle recenti nuove linee guida dell'Unione Europea per la tutela degli ecosistemi ambientali. Vi ricordo quindi l'appuntamento sulla web tv www.radiosaiuz.it, sulle pagine Facebook e YouTube dei Contratti di Fiume e di Brenta Sicuro, il webinar con Luca Palmeri, 3 giugno, ore 21. Vi aspettiamo! Brenta Sicuro e il Forum Regionale per i Contratti di Fiume del Veneto vi invitano alla rassegna Pillore d'ambiente, in diretta streaming sul web di Radio Saiuz, sui canali YouTube e Facebook e blog di Brenta Sicuro. Ogni giovedì ore 21, grandi ospiti, vi aspettiamo!